La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, ben trovati alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino, in apertura si parla di MES. C'è stata la bocciatura che divide, la Camera respinge le modifiche, no di Lega e Fratelli d'Italia, Forza Italia si astiene, spaccata anche l'opposizione, i timori del Quirinale per i rapporti con Bruxelles, patto di stabilità, niente più deficit per tagliare le tasse. Andiamo sul centro pagina con la cronaca dall'estero, c'è la fotonews strage all'Università di Praga, l'annuncio del killer sui social, giovane uccide 14 studenti prima del suicidio, flop della polizia. Rimaniamo sul centro pagina, risorge la Superlega, l'apertura del Napoli, molti club contrari, la FIGC minaccia, esclusioni, clamorosa, la sentenza della Corte Europea, l'ira della UEFA. Andiamo di taglio basso, shock nel carcere di Salerno, agente in fuga con la droga, colleghi minacciati con l'arma, poi l'arresto. A Napoli, Natale in galleria, 10 tavoli in più, record di poveri. Lasciamo la prima pagina e andiamo a vedere in primo piano il MES, lo stop dell'aula, nodi, fratelli d'Italia e Lega, Forza Italia si astiene. Nessuna modifica al trattato, l'amarezza dell'Unione Europea che parla di rammarico, si spacca anche l'opposizione, Movimento 5 Stelle contrario, SID, PD e centristi. L'ora del MES a Montecitorio scocca poco prima delle 13, quando il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, dichiara chiusa la votazione e l'aula respinge nel suo complesso la ratifica. È l'atto finale, più o meno di uno psicodramma che da anni avviluppa maggioranza e governi, lasciando ancora l'Italia sola tra i paesi dell'Eurozona che non l'hanno approvato. L'espressione del Parlamento rimanda infatti di almeno sei mesi ogni possibile nuovo tentativo di ratifica in tempo per andare oltre il voto per le europee di giugno prossimo. Eppure la decisione parlamentare, anche ieri, è maturata in via tutt'altro che semplice, portando, in virtù di coerenze più o meno lineari nei partiti, ad una spaccatura non solo nella maggioranza ma anche nell'opposizione. Cambiamo pagina. Patto, niente più deficit per tagliare le tasse, un piano per fare cassa, conti già in linea con le nuove regole ma servono coperture per IRPEF e Cuneo. Corsa ai decreti fiscali dalla riforma attesi oltre 5 miliardi il prossimo anno. Il via libera formale al nuovo patto, dopo quello politico raggiunto in videoconferenza dai ministri economici dei paesi europei, è arrivato ieri. Il pacchetto, che ha avuto il disco verde dei rappresentanti dei 27 stati membri dell'Unione Europea, è composto da due regolamenti e una direttiva. Ma che impatto avranno le nuove norme sui conti italiani? L'accordo, secondo fonti di Bruxelles, è migliorativo rispetto alle vecchie regole. Attualmente i paesi che hanno un deficit sotto il 3% e dunque si trovano nel braccio preventivo delle regole europee dovrebbero continuare comunque a ridurre il deficit strutturale. L'Italia dovrebbe addirittura arrivare ad avere un surplus nei suoi conti dello 0,25%. Insomma per Roma poter avere un deficit strutturale fisso dell'1,5% sarebbe una vittoria. E andiamo avanti. Gaza sfuma la tregua, il dramma dei bambini mutilati in centinaia. Gli ospedali nella striscia allo stremo, medici costretti a eseguire amputazioni, stallone, negoziati, Netanyahu, Hamas si arrenda e i miliziani stop all'aggressione. Più di mezzo milione di palestinesi a Gaza sono ridotti ormai alla fame, addetta del consigliere economico del programma alimentare mondiale, Arif Hussein. Gli ospedali del nord della striscia non funzionano più e i feriti e malati che non possono essere operati per mancanza di medici, infermieri e carburante vengono amputati. Il dramma è soprattutto per i bambini. Natalie Tartle, una dottoressa australiana che ha coordinato gli aiuti a Gaza per medici senza frontiere, ha parlato di un enorme percentuale di bimbi uccisi o rimasti mutilati a vita. Restiamo ancora sul mattino. A Salerno porta la droga in cella, agente punta la pistola contro i colleghi e fugge. Panico nel carcere di Forni, il poliziotto arrestato dopo l'inseguimento. Era da tempo sotto osservazione, è stato bloccato dai cani della finanza. Un episodio raccapricciante, quello avvenuto ieri mattina nel carcere salernitano di Forni, come hanno dichiarato alcuni agenti della penitenziaria, condito dall'incredulità dei detenuti che non avrebbero mai immaginato di trovarsi catapultati in una realtà simile alla scena di un film. Un poliziotto infedele ha preso l'arma e l'ha puntata contro il suo comandante per poi fuggire via. Persino la tradizionale messa di Natale, che doveva essere celebrata dal Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi, è stata rinviata. Alcuni avvocati impegnati nei colloqui con i propri assistiti per qualche istante hanno temuto il peggio, hanno visto l'uomo in divisa correre per il penitenziario con la pistola in pugno. Per fortuna non si sono verificati incidenti e l'uomo poco dopo è stato arrestato dai finanzieri. Lasciamo il mattino e andiamo su cronache. In primo piano le elezioni provinciali, il giorno dopo PD soddisfatto Luciano, a Liberti si prende Forza Italia, il caso Ventura in Fratelli d'Italia. Piero De Luca un risultato storico, Guzzo fa il pieno a Ponte Cagnano e diventa così il vice di Alfieri, si troverà una sistemazione per Fiore, Bene, Danisi e Rosamiglia di Campania Libera scompare il centro. E rimaniamo sul tema provinciali per Morra, boom di voti, valutato bene il mio operato. Andiamo sul centro pagina, l'omni che è legata a diverse cooperative, nell'organigramma anche il nome della babysitter dell'Asiano, la redazione del periodico El Vortice composto da parenti. Lo sport salernitana in saghi si gioca la panchina con il Milan schiera il tridente dei Sanctis Rescinde, oggi arriva Sabatini. Andrea Prete, ormai i lavori sono ultimati all'aeroporto tutto pronto per i primi voli, camera di commercio al lavoro. A Salerno Francesco Mucciolo, il nuovo volto di Air France e Alessia Busillo, arbitro e studentessa del liceo Medi di Battipaglia. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, diamo la linea alla regia. Rieccoci di nuovo in studio, ben ritrovati, riprendiamo la rassegna stampa con il mattino di Salerno. In apertura, agente pusher e panico, raid in carcere a Salerno, porta droga ai detenuti e minaccia i colleghi con la pistola. È stato preso, fuga in auto con la compagna, arrestati, ha tradito la nostra fiducia. Il processo, hashish e telefonini ai reclusi, tre condanni in 66 a giudizio. Di lato si parla delle provinciali, il PD vola con otto consiglieri, Franco Alfieri blinda la sua maggioranza, Cardiello mancano schede nulle e bianche. E poi ci sono due interviste a Giovanni Guzzo Deidem e a Daliberti di Forza Italia. Andiamo sul centro pagina, De Santis dice addio, Inzaki si gioca il futuro. Big match con il Milan, Sabatini davanti alla TV. L'istruzione, sempre sul centro pagina, istituti accorpati e tagli. Il piano della regione nascono 32 sedi, di cui quattro omnicomprensivi. A Salerno scompare la storica scuola Barra. Il riesame, sequestri all'isola Ligalli, respinto il ricorso dei proprietari. Lasciamo questa prima pagina e andiamo a vedere in primo piano. Le provinciali qui sul mattino, il PD vola con otto consiglieri, Alfieri blinda la coalizione con 12 seggi su 16. Netta affermazione del centro-sinistra, il centro-destra fermo a quattro rappresentanti. Cardiello di Fratelli d'Italia chiede il riconteggio, mancano le schede bianche e nulle. Nuovo consiglio provinciale, vola il PD, ai Democrat vanno ben otto seggi, quattro al centro-destra. Fuori dai giochi, azione. La tornata elettorale pre-natalizia si chiude con il centro-sinistra che riconferma la maggioranza. Palazzo Sant'Agostino, eleggendo 12 consiglieri su 16. Due gli eletti in campagna libera, uno nel Partito Socialista, uno nella lista alla provincia di tutti. Per l'opposizione sono due gli eletti in Fratelli d'Italia, uno in Forza Italia e uno in Quotalega. Intanto arriva la diffida del candidato ebolitano Damiano Cardiello di Fratelli d'Italia che chiede l'annullamento del verbale delle operazioni di voto e il riconteggio delle schede. Non vi è menzione di schede bianche o nulle, scrive nella diffida inviata alla Commissione elettorale, il che oltre a falsare il verbale è incongruente con il calcolo effettuato per l'attribuzione dei seggi. Relega la questione all'ambito meramente amministrativo il presidente della provincia, Franco Alfieri. Non ero a conoscenza, commente un fatto amministrativo se ne occuperà chi di competenza. E sempre su questa pagina le due interviste a Giovanni Guzzo, emozione per me e per i DEM. Conosciamo bene i territori, fare politica oggi è impegno disumano ma abbiamo passione e competenza. Un pensiero speciale al caro amico di Cerbo. Pasquale Aliberti, battaglie su sanità e dissesto anche a Palazzo Sant'Agostino, parla di risultato straordinario. La mia Scafati dice è la città più azzurra della Campania. Lasciamo questa pagina, restiamo ancora sul mattino. Andiamo nel Golfo di Policastro con il dibattito sull'alta velocità. Un dibattito tra incongruenze e liti. Funerale del Cilento alla chiusura della fase d'ascolto emerge il forte malcontento per l'esclusione della Tirrenica. A Borrelli tutti i politici assenti. Chiuso il dibattito pubblico per il nuovo tracciato dell'alta velocità nel tratto romagnano. Un buon abitacolo, Praia Mare. L'ultima seduta mercoledì sera a Sapri. Comune fuori tracciato insieme al resto del Cilento e del Golfo di Policastro. La discussione è servita proprio a chiarire le ragioni per le quali i tecnici di RFI hanno tenuto fuori la storica tratta tirrenica. Ieri online è stato presentato un documento che contiene 36 contributi venuti fuori dagli altri incontri organizzati dal coordinatore del dibattito pubblico, il professor Roberto Zucchetti, per informare i territori sui contenuti del progetto. Battipaglia, Piazzole e Cassonetti, Smart, Tocca ad Alba. A Sala Consilina, conti svuotati e maxitruffa, l'ex postale finisce in cella. Un ex dipendente di poste italiane è stato arrestato perché accusato di aver sottratto circa 630 mila euro da almeno 20 clienti con bari e spedienti. È un uomo originario del Golfo di Policastro, da tempo residente a Padula, che per anni ha lavorato nel ballo di Diano. La Procura di Potenza, guidata da Francesco Curcio, ha delegato i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e la Guardia di Finanza di Potenza a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere e al sequestro nei confronti dell'indagato ritenuto dal GIP gravemente indiziato di plurime condotte contro il patrimonio, la fede pubblica e la libertà personale. Provinciali scoppia il caso in maggioranza Conte ad Eboli. Sonora sconfitta per Mario Conte alle provinciali. Antonio Alfano incassa solo cinque consensi nella fascia territoriale di Eboli e non riesce a confermare il ruolo di consigliere provinciale. Alfano sarebbe rimasto spiazzato e incredulo alla luce delle rassicurazioni ricevute dai colleghi di maggioranza. Pochi giorni fa aveva dichiarato di aspettarsi 14 voti e ne sono arrivati cinque. Capaccio Pestum all'oggi ex Ersac a Gromola e Spinazzo. Il Consiglio di Stato sospende la vendita. E Battipaglia ha premiato il nuovo logo del fico bianco DOP. Lasciamo il mattino. Spostiamoci su Crona che anche qui in primo piano le provinciali PD. Il PD sbanca ma tradisce Fiore. Il PSI perde consensi e il centro sparisce. Giovanni Guzzo il più votato in assoluto. Salerno Città porta a casa solo il consigliere di maggioranza Dem. Ventura di Fratelli d'Italia abbandonato a se stesso. Michele Sarno sceglie di non votare. E ancora Forza Italia avvolta le spalle a Ruberto e sostiene a Liberti che conquista il centro-destra. Andiamo ad Agropoli. Alluvione del 2022 ai vigili 4.500 euro di straordinari. Stanziati i fondi per i compensi di lavoro straordinario effettuato in occasione dell'alluvione del 19. novembre del 2022. Bonus anche al comandante e alla moglie del presidente del Consiglio. 4.520 euro per compensi di lavoro straordinario è quanto deciso dal comune di Agropoli. Ad oltre un anno dei fatti in oggetto l'amministrazione muta li passi liquida agli straordinari agli agenti di polizia municipale che in quel giorno del novembre del 22. Mentre Agropoli viveva uno dei suoi giorni più difficili in gran parte della popolazione subiva danni a causa dell'ondata di piena. hanno prestato servizio per fronteggiare le numerose richieste di intervento da parte dei cittadini in forte difficoltà. Sessa Cilento furti il sindaco ammette il non funzionamento delle videocamere. L'attuale apparato di videosorveglianza comunale sul territorio è al momento spento in attesa di adeguare il sistema alle normative specifiche dettate dal Ministero dell'Interno. Con queste parole il sindaco Gerardo Botti risponde al consigliere Gabriele Falcione sulla questione del sistema di videosorveglianza. Nei giorni scorsi ci sono stati dei furti in zona e i casi si registrano anche nel piccolo borgo e nelle frazioni. E termina qui la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per essere stati con noi, per averci seguiti. Vi auguro buona giornata. Grazie a tutti.